Il Progetto di Noopress è un progetto di media indipendente, di informazione indipendente che è nato circa dieci anni fa a Roma e si colloca all'interno dei movimenti sociali italiani ed europei ed è fondamentalmente un portale di informazione indipendente che svolge un lavoro di informazione per dare voce ai movimenti sociali. Intanto la situazione pandemica che ci troviamo a vivere in questi giorni ha da un lato confermato e radicalizzato alcuni processi che erano già in atto anche dal punto di vista del campo della comunicazione e dall'altro ha determinato alcune discontinuità fondamentali. C'è stata una grande sensibilità a tener conto di quella che era un avanzare di una pressione politica che veniva dall'interno dei social network. Anche i paesi più recalcitranti ad applicare le misure di distanziamento sociale, basti pensare alla Gran Bretagna ma anche inizialmente agli Stati Uniti come altri, hanno dovuto in qualche modo cedere rispetto a un'ipotesi di gestione neomaltusiana della crisi pandemica e cioè hanno dovuto mettere in primo piano il problema della protezione della società rispetto a quello della valorizzazione economica. E penso tra l'altro che questo tema, questo campo di tensione che è stato caratteristico delle prime fasi di espansione del contagio di Covid, si riapre adesso nel momento in cui si stanno discutendo nei paesi il modo in cui si allentano queste misure di contenimento. Ciò che fanno i media indipendenti in questo frangente è quello di potenziare, di collocarsi all'interno di questo scontro e di agirlo nei termini più potenti possibili. Ovviamente l'altro aspetto della questione riguarda il fatto che noi cerchiamo assieme a molti altri di decostruire quanto possibile quelle che sono le retoriche con cui si sta a livello istituzionale descrivendo questa situazione. Quello che mi viene in mente come prima cosa è la sovrabbondante retorica bellica. L'idea che stiamo in guerra contro un nemico invisibile produce immediatamente l'effetto di omogenizzare il corpo sociale, di presentare il corpo sociale come qualcosa di omogeneo, indistinto, il quale coincide tra l'altro con quella che è la comunità nazionale in una specie di grande mobilitazione che non è una mobilitazione classicamente guerresca, nel senso che la gente non va nelle trincee, ma è una mobilitazione emotiva. Questa è una retorica molto forte ed è una retorica che ovviamente produce degli effetti perversi che sono quelli di rendere invisibile invece il fatto che se è vero che il contagio potenzialmente colpisce tutti, gli effetti del contagio, in particolare gli effetti socio-economici del contagio non sono per nulla indistinti, ma anzi seguono quelle che sono le linee di stratificazione della società. La stessa retorica del restiamo a casa, l'appello a restare a casa non solo ha dimenticato coloro che non hanno una casa o coloro che invece vivono il proprio spazio domestico dentro dei campi, dove quindi le condizioni sanitarie sono assolutamente altamente pericolose, altamente rischiose, ma poi lo stesso spazio domestico, quello più classicamente inteso, è presentato come uno spazio di per sé pacifico, non conflittuale. Su questo noi abbiamo lavorato molto a decostruire questa retorica, in particolare attraverso soprattutto il contributo del movimento trasfemminista, che ha in tutti questi anni mostrato come lo spazio domestico è tutt'altro che uno spazio liscio, ma è invece lo spazio segnato da non solo diseguaglianze, ma da linee di dominio, da linee di violenza piuttosto radicali e piuttosto endemiche. Non siamo così sconosciuti al linguaggio di guerra, noi veniamo da una fase politico-istituzionale, dove in realtà era già presente una logica di guerra, cioè una brutalizzazione del linguaggio politico-istituzionale e comunicativo. È quella che Rita Segato ha con una formula molto appropriata chiamata pedagogia della crudeltà, cioè questa distruzione sistematica nel linguaggio di quelli che sono gli elementi di empatia umana, il ricorso alla solidarietà, la tensione alla cura fra gli esseri umani. Gli elementi dell'empatia e quelli della solidarietà invece stanno diventando assolutamente centrali nella comunicazione politica, questo ovviamente grazie a questa specie di tendenza anche sotterranea nella comunicazione sociale e virale, che sta invece esaltando gli elementi della fratellanza, cioè della solidarietà, che riguarda evidentemente il lavoro e il personale medico-sanitario, ma che più in generale sta ponendo al centro il problema e la questione della difesa della salute e della cura collettiva, che è questo continente sommerso, che tuttavia è molto molto importante, oggi è diventato protagonista. Credo che in un certo senso quello che è apparentemente il nuovo protagonismo dello Stato che noi stiamo vedendo in questi giorni sia in realtà una specie di mistificazione di quello che è invece il vero protagonismo della riproduzione sociale in questo momento. Credo che questo sia un elemento tra l'altro non estremamente nuovo, nel senso che già i movimenti femministi globali e il movimento per la giustizia climatica avevano operato questo ribaltamento, ma credo che la situazione pandemica abbia radicalizzato questa situazione. Il grande compito che abbiamo è quello di far corrispondere a questo ribaltamento ottico un ribaltamento politico, cioè costruire dentro questa situazione una nuova immaginazione politica, una nuova immaginazione egemonica. Il ruolo dei media indipendenti o anche delle soggettività politiche in questo momento è soprattutto quello di organizzare il senso, cioè di potenziare quelle che sono le linee di frattura e di conflitto che si danno dentro il senso nei social network e nel rapporto con i media mainstream. Credo che oggi sia possibile riaprire anche il campo della problematizzazione del sapere scientifico. Questo ovviamente ha come condizione il fatto di creare delle nuove alleanze anche con una parte della comunità scientifica, con una parte dissidente della comunità scientifica, del sapere tecnico scientifico e questo è ovviamente un problema che riguarda le esperienze militanti perché è da molti anni che questo rapporto è un rapporto un po' perduto.